Ci sono un sacco di persone nel vostro futuro che vi aspettano. Più o meno lontane del tempo, ma sono lì. Tu sei un angelo. No. Noi ci ricorderemo di noi. Dov'è mia figlia? Lasciaglielo fare. Ma non si può. Secondo voi quante sono le persone felici in questo momento? Grazie.